La sezione di Teramo di Alco Consumatori mette a disposizione la propria struttura viste le tante richieste ricevute fino ad oggi. Nel dettaglio cosa farà? Noi metteremo a disposizione il nostro ufficio legale che comunque dà corsa a quella che è una richiesta piuttosto numerosa di ex soci e soci della BCC i quali si sono sentiti in un certo modo defraudati e quindi vorrebbero fare un'azione risarcitoria o che altro nei confronti del management. Chiaramente questa è una fase di ascolto e quindi noi stiamo aspettando anche altri soci che volessero aderire a questo tipo di iniziativa e quindi iniziare con una piccola investigazione e quindi acquisire dati necessari per poter portare avanti in altri ambiti questa nostra istanza. Da noi sono arrivate fino adesso una ventina di soci ma molte telefonate le abbiamo ricevute quindi per questo motivo dobbiamo dar corso a quello che è il nostro dovere istituzionale raccogliere tutte le istanze possibili, concentrarle in un'unica attività in modo tale da dare soddisfazione a tutti. Quindi non inizieremo se prima non abbiamo raccolto la maggior parte dei soci interessati. Le vicende sono state sviscerate già nei mesi passati attraverso i media su quella che è stata la svolta della BCC assorbita da un'altra banca per cui la BCC ha perso la sua capacità autonoma di gestire i propri clienti e i propri soci e quindi da qui è nata questa esigenza da parte dei soci di chi comunque non era d'accordo con questo tipo di attività di gestione e anche di management di percorrere una strada di risarcimento.